Loredana Leciso rompe il silenzio sui social, e risponde in maniera velata alla proposta di Albano, ecco cosa ha scritto sui social Albano stupisce ancora una volta? Proprio oggi il famoso cantante sul settimanale, chi ha fatto una confessione, che ha lasciato tutti molto perplessi Il famoso cantante di Cellino San Marco ha dichiarato, che vorrebbe trascorrere il giorno di Natale in compagnia di Loredana Leciso e Romina Pover Albano e la proposta a sorpresa.Al Bano ancora una volta fa parlare di sé Il triangolo amoroso tra Albano, Loredana Leciso e Romina Pover non smette mai di stupire Questa volta Albano, ha davvero lasciato tutti senza parole, infatti a sorpresa, ha dichiarato che questo Natale avrebbe piacere di trascorrerlo in compagnia di Loredana e di Romina L'Aleciso sotto una foto ha scritto due punti, punto le risposte arrivano da sole, piano, tutte Chiuse, virgolette, punto chissà se con questa frase Loredana non abbia voluto comunicare la sua risposta ai fans in merito al desiderio di Albano di voler trascorrere il Natale con lei Loredana e Romina Loredana e Romina a Natale punto di domanda.Al Bano ha rivelato alle pagine di Alfonso Signorini con chi vorrebbe trascorrere questo Natale. Sua mamma, Loredana e Romina Insomma con le donne più importanti della sua vita? Mentre Romina Pover non si sarebbe ancora sbilanciata in merito alla richiesta di Albano, l'Aleciso sembrerebbe più propensa ad accettare l'invito Ma non è tutto, infatti proprio Loredana l'Aleciso avrebbe detto a Domenica Live che Albano e Romina probabilmente trascorreranno il Capodanno insieme per motivi di lavoro Insomma queste feste di Natale, saranno molto movimentate per i carrisi, e scopriremo presto come andrà a finire Loredana ancora non ha deciso come si organizzerà ma chissà se la frase scritta oggi su Instagram non sia forse una risposta anche a questa proposta Grazie a tutti